Paolo Grimoldi, lei ha detto che questo decreto cultura è una marchetta a favore del Partito Democratico, perché? Sì, è una marchetta ma soprattutto una marchetta che penalizza a Monza, la Brianza e la Lombardia perché viene spostato il forum mondiale dell'UNESCO che era previsto a Monza nel 2014, viene spostato a Firenze, nulla contro Firenze, anzi, ma viene spostato lì per beghi interno del Partito Democratico perché Renzi vuole portare a casa i 400 mila euro che finanziano l'evento che da Monza vengono spostati a Firenze. Renzi farà il segretario del Partito Democratico e quindi impone questa marchetta a questo provvedimento che è un provvedimento costellato tra l'altro di Marchette perché oltre a questa che penalizza pesantemente Monza, la Brianza e la Lombardia col silenzio totale dei parlamentari del Partito Democratico eletti in Brianza e in Lombardia è un provvedimento di Marchette perché finanzia il ruolo della Melandri che ci aveva raccontato che andava a fare un ruolo culturale non remunerato, finanzia tutti quelli che sono l'espressione del Partito Democratico sul territorio in termini dell'assistenzialismo, dello statalismo più becero. Certo non sono tanti soldi ma 400 mila euro che da Monza vengono spostati a Firenze e vanno denunciati soprattutto perché è un evento che in Villa Reale a Monza era stato ben organizzato e anche gli amministratori locali del Partito Democratico su questo tema la pensano come noi in sostanza. Il Partito Democratico però ha detto che Villareale non è agibile, lei come risponde? Dovrebbero dirlo al Presidente della Repubblica che un mese fa ha tenuto gli stati generali dell'Expo in Villa Reale insieme al Governatore Maroni e non mi risulta che gli sia caduto in testa il tetto o qualcosa del genere. Un mese fa l'hanno fatto gli stati generali dell'Expo, quindi che non raccontino barzellette. Stanno scippando Monza per marchette interne al Partito Democratico e tra l'altro la coda di paglia si evince anche dal fatto che ci hanno detto sì avete ragione ma infatti presentiamo un ordine del giorno. Però è che l'ordine del giorno sappiamo benissimo che è aria fritta, non ha nulla di merito, è soltanto una volontà di intenti ma i soldi vengono spostati da Monza a Firenze perché così esige Renzi penalizzando, ma è giusto che i cittadini monzesi e brianzuali lo sappiano, penalizzando il territorio di Monza, della Brianza e della Lombardia.